ciao amici di napoli we allora se non avete ancora visto brachetti che sorpresa questa è la vostra ultima chance per vederci al teatro diana questa volta su al vomero dal 28 di ottobre all'8 di novembre quindi se amate le sorprese la magia le cose divertenti il ritorno all'infanzia tutte queste belle cose simpatiche non dimenticate teatro diana brachetti che sorpresa